In qualche modo San Anja-Petre o in Codrea Codrea, alla terra la formazione di Giudonica può partire per Rota adesso direttore di Totti che gli vede come al solito pallone e collezione ma raddoppiano i due centrali su di un'altra volta che è veramente difficile mantenere il controllo e riuscire a battagliare la squadra sicuramente però Totti sta facendo un lavoro straordinario nell'ultima occasione ha cercato di appoggiarsi per battagliare la propria... proprio il centro campista non c'è riuscito ma ha avuto un rispetto notevolissimo ricordo che Donatoni dopo il sotteggio disse attenzione quella con la mania potrebbe essere la partita più difficile dell'intera per il tuo momento ma è una partita che dobbiamo vincere a tutti i conti intanto Camonanesi batte il traversone cancellarlo siamo al secondo minuto di recupero il tocco di Camonanesi per Zabrota palla dentro Totti go, si taglia a segno orizzontro forte con le navi orizzontro forte con le navi la barriera di una città del centro si taglia a segno e comunque le thavano sorprende dentro me lo vedo la polizontro la abbiamo ancora sorprende ero tutti tirato di spazio e la polizontro forte con le navi e la polizontro forte con le navi